Insediato il 16 ottobre a Palazzo Lascaris l'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento. Si tratta di un altro passo del Consiglio regionale del Piemonte che nell'undicesima legislatura, dopo l'istituzione della Commissione Permanente in materia di legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi, conferma l'attenzione verso i valori della liceità. All'insediamento, aperto dall'intervento di Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale, sono intervenuti numerosi componenti dell'organismo e i consiglieri delegati dall'ufficio di presidenza, Giorgio Bertola e Gianluca Gavazza. Riprendono l'attività dell'osservatorio sul fenomeno dell'usura, del sovraindebitamento e dell'estorsione, tra l'altro adesso c'è una novità molto positiva perché la Commissione per la promozione della legalità è diventata una commissione permanente, quindi uno strumento ulteriore per la nostra regione per il contrasto a fenomeni criminosi come l'estorsione e come l'usura. Proseguiremo anche l'attività di questo osservatorio secondo quello che abbiamo fatto anche nella passata legislatura dove abbiamo puntato soprattutto sull'educazione finanziaria, educazione finanziaria che è lo strumento più forte, più potente di prevenzione anche relativamente a questi fenomeni. L'osservatorio istituito nel 1996 è formato da 11 soggetti. Oltre al presidente del Consiglio regionale e dei due consiglieri segretari ne fanno parte rappresentanti di fondazioni San Matteo, San Martino e la Scialuppa, Feder Consumatori, Associazione Libera, Ires, Ufficio Scolastico Regionale e un rappresentante della Giunta regionale. La mia intenzione è di lavorare con questo osservatorio proprio per poter andare contro a queste problematiche che ci sono sempre state, forse un po' sommersi dalla poca comunicazione. Noi ci impegniamo a lavorare perché si possa rendere un aiuto a queste persone indebitate, usurate e lavorando anche con il sistema bancario, il sistema generale, che si possa così intervenire verso queste problematiche che oggi incombono sul nostro vivere quotidiano.